So arriviamo eh Mosca, tranquilla che mo' arriviamo Adesso facciamo una cosa, io non mi posso più permettere di fare il land lease, cancel the land lease Subito, grazie Cavolo questa non l'avevo ancora vista Adesso la IT manda il land lease, questa è buona Prima non lo faceva Mi sorprende che la Turchia non abbia fatto un bel niente per conquistare i territori che erano completamente sguarniti Bene, adesso come promesso andiamocela a prendere con Mosca Hai due divisioni appena addestrate in Romania Sì, non capisco perché Ah, la fantera di lune, grazie Sì, non capisco perché Ah ok, va bene No, avevo visto che era diventato tutto rosso Errore, stavo scrivendo che l'iconcino marrone è un'industria che è stata sabotata e non produce Sì, è vero Non produce, cioè non produce completamente In realtà Andiamo a tirarci fuori da questo landlock Nel quale ci siamo ritrovati Ma soprattutto eliminiamo di torno questo territorio qua Non serve un benemerito Cispos Un'altra volta che ci sente Uh, perché qualcosa è stato colpito E adesso vi arrangiate Rabberino non la ordino Vediamo un po' Abbiamo tutte le carte in regola per vincere Andiamo in avanti E speriamo bene Land lease German Reich Ma Modify the land lease Ben bisogno che tutta la produzione rimanga da noi In questo momento Che non abbiamo abbastanza pezzi per costruire tutto Di solito la resistenza come la gestisci Ma io la tengo sempre al minimo la resistenza Tanto non Non ho bisogno che la gente si incazzi Devo tenere la resistenza il più basso possibile In modo tale che così ho il tempo di conquistare il paese nemico Soggiogarlo Prendere i territori che mi interessano E fermare E fermare la nascita di partigiani e cose simili 1688 caccia Ho finito il 3G quindi ora si va di wifi Vabbè Proprio gli aerei non riesco a costruirli Navaldockerde li blocchiamo Tanto non ci interessa in questo momento Dai su Allarghiamo il fronte Spingiamo Andiamo oltre Andiamo verso Mosca Perché ci dicono che abbiamo attrito? Supply status 93% ma Vabbè siamo in dicembre può essere quello Military Youth completata Va bene Faramilitarismo Così ci mettiamo meno tempo per Generare le truppe Allora vediamo un attimo di procedere Se tutto va bene dovremmo riuscire a Magari anche conquistare Mosca Se ce la facciamo ragazzi Se ce la facciamo È epica come cosa Sud anche stanno spingendo gli alleati La Grecia Alleati ed è contro anche la Turchia Immagino perché Loro si sono fatti trascinare in guerra Se non esce l'evento super Stalin Te la cavi L'evento super Stalin non può accadere Perché non voglio assolutamente Che capiti una cosa del genere L'evento super Stalin Mamma mia Le armi devono essere sviluppate per prime Vediamo se c'è Eh c'è una Fabbrica che ha bisogno di essere riparata Che capiti oh adesso stiamo adesso hanno ceduto su questo fronte vedete com'è come arretrano adesso però portiamo in avanti anche i nostri caccia d'altronde ce li abbiamo e non li stiamo usando a cosa mi da alquanto fastidio 108 48 almeno li impieghiamo per qualcosa di utile ok questo qui è sviluppato al massimo adesso lo voglio portare qua così quanto manca per lo sviluppo della dispersed industry ok più 4 giorni facciamo un piano più più umano per la conquista di mosca voglio vedere se hanno introdotto la pace amara se hanno introdotto la pace amara siamo a cavallo neri come stanno andando qua è ostrega ho perso praticamente tutti gli aerei 1.55 la settimana a questo ritmo ci vorranno 538 giorni troppo ck2 warcraft mod? no ulrich morningstar mamma mia adesso ho paura che faccia la cagata di fare la manovra avvolgente al contrario come ho già visto che ha fatto ha fatto un paio di volte in questo gioco 3 allora ne abbiamo 3 da usare utilizziamole a dovere alluminio vediamo quanto materiale possiamo adesso riusciamo a sviluppare qualcosa di decente forse come aviazione con tutte le importazioni che abbiamo dai su spingete dobbiamo arrivare a mosca prima dei tedeschi se non mi ascolti eseguire in maniera aggressiva il battle plan avanti è rischioso ma potremmo cavarcela 12 super 5 benvenuto dunque il prossimo è questo 17 giorni infantry equipment 3 ok cos'è che c'è in surplus? l'acciaio e nient'altro ok adesso è solamente da sistemare i vari danni che abbiamo in tutto il